Dei tre scudetti che hai vinto, questo che cos'è? Il più sofferto, il più bello? Il più sofferto, prima di tutto perché un gruppo di giocatori fantastico come questo ha lavorato tutto l'anno per sovvertire tutti i pronostici che tu sai che erano tutti sfavorevoli nei nostri confronti e poi anche per quello che è successo negli ultimi mesi, perché ci hanno tirato, scusa la parola, ma ci hanno tirato tanto di quella merda addosso che la metà bastava e io dico che si può attaccare il palazzo, le istituzioni, si può criticare tutto ma il fango che hanno buttato addosso a questo gruppo di giocatori non era una cosa giusta